benvenute e benvenuti a tutte e a tutti e a questo incontro organizzato dal forum italiano dei movimenti per l'acqua in occasione della giornata mondiale dell'acqua che si celebra proprio oggi lunedì 22 marzo 2021 ci fa piacere vedere tutte queste persone che si sono collegate con noi in questo momento significa che il tema dell'acqua è sempre un tema molto molto sentito molto molto caro e questo veramente ci fa ci fa molto piacere il tema della giornata mondiale dell'acqua di questo 2021 è valorizzare l'acqua diamo un valore all'acqua noi come come forum italiano dei movimenti per l'acqua ci siamo spesso interrogati sul significato di questa parola della parola valore perché è una parola che vuol dire tante cose vuol dire valore etico vuol dire valore morale ma vuol dire anche valore economico e una parola come questa accostata alla parola acqua come dire fa da adito a tantissime interpretazioni a tantissime interpretazioni che molto spesso come dire diventano anche un po fuorvianti soprattutto per chi come noi si batte da tantissimi anni per l'acqua bene comune per un'acqua non gestita come una merce per un'acqua che non faccia profitto che non si faccia profitto sull'acqua ma che appunto questa venga 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 gestita nell'interesse della collettività e per le generazioni future come forum chi ci conosce sa benissimo che abbiamo fatto un lungo percorso di battaglie su questo tema su questo punto a partire già da una legge di iniziativa popolare per cui raccogliemmo 400 mila firme ormai tantissimi anni fa nel 2007 e per poi arrivare alla straordinaria esperienza referendaria del 2011 in cui tutto il popolo la maggioranza del popolo italiano si è espresso con noi per la gestione pubblica dell'acqua e allora sentir parlare di valore come dire ci fa drizzare un po le antenne e soprattutto in un momento in come questo in cui proprio di recente a dicembre del del 2020 e si è verificato un un evento nuovo un che che appunto quella della quota per la prima volta l'acqua è comparsa nel nel mercato nel mercato azionario è stato è stato messo un titolo poi i relatori spiegheranno molto meglio di me la cosa ma è stata quotata è stato quotato in borsa un future un derivato che scommette sul prezzo dell'acqua questo è successo in california e però è un è un evento come dire è una svolta è un punto speriamo che non sia un punto di non ritorno ma è un evento molto significativo che che ci fa riflettere e proprio sul tema del valore dell'acqua e che ehm come dire eh percepiamo una sorta di 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 pericolo in questa in questo percorso perché sappiamo bene come eh queste mh queste questi 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 eventi finanziari possano generare speculazioni proprio anche sul beh sui beni eh reali concreti e e e giocare in borsa su un bene come l'acqua capite bene che eh diventa molto molto pericoloso l'acqua come fonte di vita come sicuramente ci ricorderà il nostro padre Alex Zanotelli e eh fortunatamente eh non solo noi diciamo del forum italiano dei movimenti per l'acqua eh ci siamo ovviamente accorti di di questo fatto ma ehm si si è espresso con forte preoccupazione eh una persona ben più rilevante e ben più importante di noi e che abbiamo l'onore di ospitare di avere qui eh questa sera e con il quale proprio vorremmo confrontarci su questo tema eh sto parlando del relatore speciale delle Nazioni Unite il professor Pedro Arroco Agudo che si occupa proprio eh di monitorare diciamo così il diritto umano all'accesso ad un'acqua sicura un'acqua potabile sicura e a servizi igienico sanitari di base come sappiamo bene nel duemila e dieci eh l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha sancito questo diritto un diritto umano universale l'accesso all'acqua potabile sicura e ai servizi ehm sanitari e eh proprio a settembre del duemila e venti eh è stato c'è stato un cambio di guardia e il relatore speciale è diventato il professor Pedro Arroco eh Agudo ehm non sto qui a ricordarle ma qualcosa mi piace ricordare di lui nel senso che è ehm un profondo conoscitore della tematica del diritto umano all'accesso all'acqua eh ha fatto tante battaglie e per questo ha ricevuto anche dei premi e dei riconoscimenti nel duemila e tre ehm ha vinto il Goldman ha vinto insomma è stato nominato per il Goldman Environmental Prize eh proprio per una battaglia che fece sul sull'utilizzo della risorsa idrica in senso lato lì si trattava del fiume Ebro eh dove appunto una serie di progetti di dighe volevano sottrarre l'acqua all'ambiente e e alle persone e e sappiamo bene che il tema delle dighe è un tema molto delicato in questo in questo campo e ma questo è solo una delle delle cose che che lo riguardano è stato membro del Parlamento Spagnolo per due annualità e ha fondato anche delle delle associazioni delle fondazioni eh che hanno proprio avuto ma poi lui ce lo spiegherà meglio di noi hanno proprio voluto ehm come dire mh ragionare su una cultura della una nuova cultura dell'acqua eh un uso sostenibile dell'acqua perché eh e verso questa direzione non possiamo far altro che andare alla luce ovviamente anche del del cambiamento climatico che che sta minacciando seriamente questa risorsa e noi di conseguenza eh ricordo eh sul tema del della quotazione dell'acqua in borsa ovviamente il nostro appello eh un appello che come forum eh italiano dei movimenti per l'acqua abbiamo lanciato e che ha già raccolto eh ben quarantatremila firme eh di persone che hanno avvertito come noi questo campanello di allarme su su questa su questa quotazione che pur essendo venuta dall'altra parte del 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 mondo sappiamo bene che eh rimbalzerà ovviamente avrà riflessi su tutto su tutto il mondo su tutto a livello globale insomma e quindi voglio ricordare questo appello stiamo ancora raccogliendo le firme eh magari eh può essere messo in chat il link il link all'appello che si può ancora sottoscrivere e che presto presenteremo alle più alte cariche del del nostro Stato eh proprio per richiamare l'attenzione su questo su questo bene prezioso tra l'altro proprio in un momento come quello che stiamo vivendo la pandemia che ci richiede eh come dire eh un uso dell'acqua molto importante proprio per evitare il contagio quindi e non solo anche in vista di una serie di soldi che arriveranno per per risalire la china diciamo così per eh per cercare di uscire da questa crisi sanitaria ma non solo e però sempre tenendo la barra dritta sul su quelli che sono i diritti umani su quelli che sono i beni comuni eh e quello che quindi è l'acqua da questo punto di vista eh non la faccio più più lunga del necessario e quindi invito il relatore speciale dell'ONU il professor Pedro Arrojo Agudo a condividere con noi la riflessione proprio mettendo come dire in evidenza il significato della parola valore dell'acqua cioè come mai è stato scelto eh un tema che può essere veramente letto ehm da da chi è abituato a ragionare in termini speculativi e economicamente parlando accostato alla parola acqua proprio alla luce del di questa quotazione in borsa che c'è stata a dicembre duemilaventi lascio la lui la parola grazie grazie su Grazie a tutti.